Benvenuti ad Acqua e Sapone News! È il momento di lanciare la somma! Si tira la somma, non si lancia! Niente, non ci arriva, lanciamo Monica! Ah, somma! Grazie per una pulizia eccezionale delle stoviglie Prova Finish Quantum Ultimate 60 Cups a 8,49 euro E l'efficacia di Finish Power Gel 3 Paco a soli 7,99 euro E se acquisti un detergente Finish ricevi in omaggio Il regolatore d'acqua per il rubinetto Per aiutarti a risparmiare acqua preziosa Daniela, quanti negozi ha Acqua e Sapone? Più di 700, vero Monica? Certo amici, in ogni negozio Acqua e Sapone Trovate il nuovo volantino nazionale con tutte le offerte del momento E per rimanere aggiornati su tutte le novità e le promozioni di Acqua e Sapone Andate su acquesapone.it o sulle pagine social di Acqua e Sapone Vi aspettiamo! È il momento dei saluti, ma ricordate Chi ben comincia è a metà dell'opera Io a metà me ne vado sempre Di che? Dell'opera! Toto! Mamma mamma! Acqua e Sapone, oltre la convenienza!